Perfetto, buongiorno a tutti, grazie di essere qui al mio talk, chi sono io? Sono Davide Bettio, di cosa mi occupo? Mi occupo di sistemi embedded, tra le varie cose, soprattutto per lavoro, e oggi vi parlerò di Arch64. Che cos'è Arch64 e perché ve ne parlo oggi? Arch64 è essenzialmente ARM a 64 bit, detto in modo brutale, e perché ve ne parlo oggi? È molto semplice. Essenzialmente, nonostante questa architettura sia ormai sul mercato da un po' di tempo, solo recentemente inizia ad essere facilmente reperibile, soprattutto senza dover prendersi per forza un cellulare Android. Essenzialmente i primi dispositivi che uscivano con ARM a 64 bit erano gli iPhone, adesso iniziano ad esserci anche varie schede, tra cui la Raspberry Pi 3, che ha una CPU ARM Cortex Sticazzi, che è ARM V8. Breve storia di ARM. Che cos'è ARM? È un'architettura di processori che è vecchiotta in realtà. Nasce per i computer della BBC, nell'85. Inizialmente i computer della BBC, BBC Micro, avevano supporto a un modulo coprocessore, in cui venivano messi dei coprocessori per fare task extra o eseguire sistemi operativi non supportati dal BBC Micro. Uno di questi moduli erano prodotti dalla Acorn, l'azienda che produceva all'inizio ARM, insieme a un'altra azienda. L'ARMA è nato anche perché chi si occupava dello sviluppo di queste cose era rimasto affascinato da alcuni paper dell'epoca sul design dei processori RISC, perché ricordiamoci che eravamo in un'epoca in cui la normalità erano processori tipo il Motorola 68000, che erano dei mostri con una marea di istruzioni, una marea di transistor dedicati alla programmazione in microcodice, alle tabelle di codifica e quant'altro. Qualcuno è rimasto affascinato dalla possibilità di fare questi design semplificati. Questo fu un vantaggio che si rivelò soprattutto in seguito, perché ARM appunto nasce inizialmente come processore per mini computer, personal computer dell'epoca, e si è trasformato nell'architettura di riferimento per tutti i sistemi handled o quant'altro, in genere sistemi embedded. Uno dei passi in avanti più significativi fu compiuto grazie ad Apple, che nel 1992 creò il loro PDA, che era l'Apple Newton. Avevano bisogno di un dispositivo handled, appunto un PDA, e svilupparono e poi usarono i processori ARM6. Ok, sempre continuando la breve storia. Adesso, giusto per capire, c'è stato un po' un casino nello sviluppo, nel senso che hanno fatto una nomenclatura completamente folle, almeno per capire, è completamente folle dal punto di vista che non è esattamente lineare capire di cosa si sta parlando, nel senso che, come potete vedere, si può parlare di ARMv6 per riferirsi poi all'ISA supportata dai core ARM11. Quindi è un attimo incasinarsi. Comunque, essenzialmente, questa è la storia. Cioè, è stato appunto ARMv2, che è stata la prima evoluzione, ARMv3, che sarebbe l'ISA, con le CPU ARMv6, ARMv6, che erano quelle che si trovavano nei PDA Apple Newton, poi arrivò ARMv4T e le CPU ARMv7 TDMI e ARMv9 TDMI in seguito, che sono le CPU che si possono trovare, questa è la CPU che, ad esempio, si trova comunemente nei vecchi Game Boy Advance, questa è la CPU che si trova nei Nintendo DS. E poi ci furono altre evoluzioni. Questa fu molto importante, perché a un certo punto io introdusse lo thumb, di cui vi parlerò dopo. Con ARMv5 iniziò ad essere disponibile la FPU, perché fino a prima la FPU era un componente a parte. Poi arrivò ARMv6, ovvero ARMv11, che è quello che viene usato nel Raspberry Pi. Tra le varie possibilità c'è il supporto al multicore, ha introdusso delle istruzioni come cui era possibile fare set atomico, delle flag e quant'altro. ARMv7 è quella più diffusa attualmente, che è quella che si trova nella maggior parte dei telefoni. E, appunto, la famiglia delle CPU venne rinominata in ARM Cortex. E poi, appunto, arrivò ARMv8. Questo è... Allora, confondiamoci un po' ancora di più. Parliamo un po' di cosa è successo, cosa sono tutte queste sigle. Essenzialmente, come dicevo, con... Allora, torniamo indietro un attimo. Allora, una delle problematiche delle CPU RISC è che hanno delle istruzioni molto semplici. Ci sono delle istruzioni che fanno pochino e fanno solo quello e ne servono tante. Quindi non è come su X86 che c'è un'istruzione che fa, che ne so, fa più o meno il setup dello stack. C'è un'istruzione piccola, piccola, che fa solo una cosina. Non c'è un'istruzione tipo push, pop, quant'altro. Ci sono le istruzioni per fare lo store di dati, ci sono le istruzioni per fare il load di dati, ci sono le istruzioni per spostare unicamente le cose nei registri. Cosa succede? Tra le varie, sempre per il design semplice dell'architettura, tutte le istruzioni hanno una dimensione fissa di 4 byte. Questo porta a un problema terribile, ovvero, soprattutto quando si ha poca cache per le istruzioni, la cache si satura velocemente, ci sta poca roba. A questo punto, rendendosi conto che gli eseguibili tendono ad essere belli grossi, riempiono la cache rapidamente, introdussero Thumb. Thumb è essenzialmente un set di istruzioni con delle word da 2 byte ciascuno. Essenzialmente aumentava la compattezza di tutto il software e questo rendeva abbastanza più veloce l'esecuzione, in quanto ci stava molto più codice nella cache, che è una risorsa abbastanza scarsa. Successivamente, e questo fu introdotto appunto con gli ARM7, infatti il T sta proprio per Thumb, e poi viene esteso successivamente. Nel frattempo poi arrivò ARM9, con l'ISARMv5, appunto in cui viene introdotto VFP, che sta per Vectored Floating Point versione 2, che è l'essenzione appunto per l'FPU. Il nome è abbastanza misleading perché Vectored non è Vectored, nel senso che non c'è nessuna operazione SIMD in mezzo. Non chiedetemi il perché, perché non ne ho idea del perché è stato dato un nome così infelice. Infine arrivò ARM11. Con ARM11 sono resi conto che le istruzioni Thumb erano limitate, e aggiunsero delle estensioni, essenzialmente aggiunsero delle word a 32 bit di qua e di là, e questo rese anche il codice Thumb di dimensione variabile. Piccola parentesi, come si faceva ad entrare in modalità Thumb, come ci si accorgeva che si era in modalità Thumb, banalmente quando si è in modalità Thumb ci si può trovare che il program counter si trova un indirizzo multiplo di 2, invece quando si è in modalità ARM classica si è sempre su un multiplo di 4. Chiusa parentesi. Ultima evoluzione con ARMv7, quindi tutti i Cortex, arriva al Neon, e finalmente abbiamo le istruzioni SIMD, quindi su vere istruzioni vettoriali, con cui fare tutte quelle cose carine, con cui Intel ci aveva abituato con SSE da anni. Allora, visto che le cose erano abbastanza semplici, quando è arrivato Cortex hanno detto distinguiamo tutto in tre diversi profili. Quali sono questi profili? Quando sentite parlare di Cortex A, R o M. M sta per i dispositivi integrati, R sta per dispositivi sempre integrati ma real time, tipo un uso dei Cortex R potrebbe essere dentro il controller di un disco. E poi infine c'è Cortex A. Cortex A è essenzialmente la CPU da telefono, quella che trovate per le applicazioni. Su Cortex M in genere si esegue il codice Thumb, hanno una serie di limitazioni, ad esempio manca l'M, M, U, a volte si può avere l'M, P, U, e ci sono una serie di altre limitazioni, quanto a memoria si può indirizzare e quant'altro. E insomma sono abbastanza ridotte, però appunto hanno un basso consumo. Cortex A invece sono per i telefoni che hanno subito una crescita continua appunto anche del tipo di hardware che supportano. Siamo passati dai primi telefoni con Cortex A che hanno pochi MB di memoria, e siamo arrivati ai telefoni attuali che hanno varie giga di memoria. E cosa succede? E visto che abbiamo complicato tutto con varie sigle di vario tipo, giusto per diversificare le cose, aggiungiamo la pazzia totale. Pazzia totale, abbiamo deciso, a un certo punto hanno deciso, bene, tutte le applicazioni sono compilate con una certa ABI, che era OABI, si sono resi conto che OABI non era un granché nei sistemi embedded, hanno pensato, facciamo un'altra ABI incompatibile e sarà ABI embedded ABI. Però siccome l'FPU non c'era sempre, era opzionale, cosa hanno pensato? Facciamo due ABI, quindi complichiamo ancora le cose di più. Cosa succede? Abbiamo i binari compilati ABI soft float e ABI hard float. A complicare tutto c'è il fatto che i binari soft float non per forza non usano le istruzioni della FPU. È semplicemente una questione di calling convention, quindi potremmo avere dei binari compilati in soft float, ma che al loro interno usano l'FPU. Quindi le funzioni si passano in floating point nel modo soft float. Internamente potrebbero usare l'FPU. E qui bisogna stare molto attenti a questa cosa, soprattutto quando si compila per ARM V5. Questo può succedere che voi, se non state abbastanza attenti, vi potreste trovare del codice con l'FPU dentro, anche se state compilando i soft float. E quindi ci ritroviamo una bella varietà. Quindi ci troviamo di fatto con tre ABI da supportare. Quindi ogni binario potrebbe essere compilato in tre modi diversi per uno user space diverso. Tra parentesi, queste due ABI funzionano con lo stesso kernel. Dovete abilitare nulla nel kernel o ABI richiede addirittura di abilitare adesso nei kernel nuovi il supporto ABI. Quando prima era il contrario andava abilitato E-ABI. Quindi hanno complicato abbastanza le cose nel tempo, perché appunto ha avuto uno sviluppo abbastanza rapido e non sempre lineare. In tutto questo hanno cosa hanno fatto? Qua è un piccolo schema della nomenclatura così si capisce cosa... Ogni tanto trovate queste stringhe abbastanza incomprensibili, tipo ARMV7TNHL. Queste stringhe cosa significano? Significano che abbiamo un binario compilato per l'AISA ARMV7 con il supporto a thumb, la n sta perché il fatto che i binari sono stati anche compilati con il supporto a Neon e HL significa che l'ABI è hard float. Non sono sigle del tutto standard, sono abbastanza diffuse. Debian ad esempio usa le stringhe ARMEL mi pare e ARMHF per identificare queste due architetture. Tra parentesi Debian, per loro scelta, non supporta molteplici revisioni dell'ISA, supporta l'ultima in soft float e l'ultima in hard float, quindi non è supportato tutto. Infatti per la Raspberry Pi c'è una distribuzione apposta per la Raspberry Pi 1, anche per questo motivo qui. La Raspberry Pi 1 è ARMV6L. Normalmente i binari per la Raspberry Pi 1 sono compilati in soft float e sono compilati appunto per l'ISARMV6, che è dotato appunto di FPU e basta. E appunto adesso cosa è successo? È arrivato ARMV8. Hanno detto, dobbiamo fare, siccome adesso abbiamo questi sistemi, anche in tasca, che hanno tot giga di RAM, abbiamo applicazioni enormi, poi magari ci piacerebbe entrare anche nel mercato dei server, si sono resi conto che anche loro hanno dovuto fare il passaggio a un'architettura a 64 bit. A questo punto hanno approfittato e hanno detto, perché limitarsi ad estendere l'architettura quando possiamo ripensarla il più possibile, rimanendo comunque simile a quello che abbiamo fatto nei punti positivi, ma ripensiamo le cose in modo migliore. e loro hanno deciso di fare un'unica abi, hanno ammazzato il supporto a tutte le abi, in modo da non complicare la vita alle persone. La FPU da questa DARMV8, che ha appunto introdotto ARM a 64 bit, è obbligatoria, quindi non ha neanche più senso porsi il problema della compilazione con o senza supporto alla FPU. e Neon, che è appunto il set di istruzioni vettoriali, sono sempre lì presenti. Thumb è stato escluso, perché essenzialmente hanno deciso di fare la semplificazione anche lì, hanno tolto Thumb e sono concentrati in un buon set di istruzioni a 4 byte. E hanno cambiato appunto l'encoding delle istruzioni. Allora, cosa hanno fatto? Allora, ho appena detto che hanno cambiato l'encoding delle istruzioni. Essenzialmente, hanno fatto alcune modifiche importanti. Innanzitutto, hanno deciso di rimuovere... Allora, su ARM, era una cosa carina all'epoca, però poi si è rivelata una cosa problematica. Su ARM è possibile condizionare più o meno qualsiasi istruzione. È possibile mettere una flag e renderla condizionale. Quindi, possiamo, che ne so, avere una somma condizionale in base a delle flag che sono settate. Possiamo avere una moltiplicazione condizionale, possiamo avere una sottrazione condizionale, accesso a memoria condizionale, tutto condizionabile. Questo ci fregava, perché ogni istruzione aveva tot bit dedicati al condizionare le istruzioni. Secondariamente, non solo perdevamo dei bit per condizionare ogni istruzione, che magari non era così usata in forma condizionata, ma addirittura complicava il design della pipeline, perché essenzialmente in pipeline ci ritrovavano delle istruzioni che non era detto che poi venivano eseguite. Hanno deciso, per semplificare il tutto, di uccidere questa feature. Hanno detto, solo alcune istruzioni sono condizionabili, tutto il resto no. Così abbiamo risparmiato dei bit, e questi bit ci sono detto, siccome i registri su ARM 32 bit di fatto sono 16 registri, tra cui c'è il program counter e quant'altro, hanno detto, usiamo questi bit in più, per dare un bit in più per ogni singolo campo di ogni operando registro, e quindi abbiamo 5 bit per identificare il registro, quindi abbiamo 32 registri possibili. E appunto le istruzioni sono rimaste, come precedentemente, sempre tra operandi per istruzione, generalmente. Poiché altri cambiamenti, appunto, hanno introdotto tutti questi nuovi registri. Anche lì hanno deciso di fare alcuni cambiamenti importanti. Il program counter su ARM 64 bit non è più accessibile. Essenzialmente su ARM 32 bit era possibile, ad esempio, una cosa classica, è quando si tornava da una funzione, invece di fare un jump o un ret tipo x76, banalmente cosa si fa? C'è un registro che si chiama link register, che è praticamente l'indirizzo di dove il chiamante si era fermato. Cosa si faceva? Banalmente si faceva mov pc virgola lr, che significa prendi il contenuto del link register e mettilo dentro il program counter. E così veniva realizzato un salto. Di fatto, permettendo l'accesso così libero al registro del program counter, e trattandolo come un registro un po' general purpose, questo creava problemi, soprattutto nella gestione della pipeline, nonché poi sprecavamo un registro in più, che potevamo usarlo per qualcos'altro. E sempre seguendo questa logica, hanno deciso anche di togliere dai registri general purpose lo stack pointer. Lo stack pointer non è più un registro general purpose, ma appunto è nel registro x31, che qui bisogna però fare molta attenzione, perché hanno fatto una scelta che è furma, ma se non si fa attenzione ci si può far male. Il registro 31 è anche un registro hardwired a zero, ovvero a seconda di come vengono usate alcune istruzioni, a seconda di quali istruzioni si tratta, o fanno riferimento allo stack pointer, o potrebbero fare riferimento a un registro, che ogni volta che viene letto è pari a zero, e ogni volta che ci si scrive la scrittura è ignorata. E appunto sul registro 31. Poi appunto link register c'è sempre, è stato semplicemente spostato sul registro x30, e sull x29 abbiamo il frame pointer. E andiamo avanti con cosa è cambiato, o cosa è rimasto uguale. E come dicevo, ARM appunto, come avevo premesso inizialmente, è un'architettura RISC. Una delle peculiarità dell'architettura RISC, a differenza di architetture CISC come x86, è che tutti gli accessi in memoria avvengono tramite due istruzioni con le loro varianti. Una è load e store, non è possibile fare mov, accessi diretti, memoria e quant'altro. Quindi, cosa succede? Ci sono queste due istruzioni molto importanti, che sono load e store. E hanno fatto un cambiamento importante anche qui. ARM supportava, una cosa che era molto comoda quando si scriveva software, però aveva una serie di problematiche, load multiplo e store multiplo. Ovvero si poteva decidere anche di, che ne so, di memorizzare otto registri a partire da un certo indirizzo di memoria. Questo era abbastanza problematico nell'organizzazione della pipeline. E quindi hanno deciso di scartare queste istruzioni e di introdurre due nuove istruzioni carine, che sono load pair e store pair. Essenzialmente è possibile con, in ARC64, salvare due registri alla volta. Questo può essere utile se i registri, ad esempio, li stiamo usando per tenere dell'interia 128 bit, ad esempio. E poi hanno fatto un po' di alcune piccole semplificazioni, anche nelle modalità di accesso, gli offset o quant'altro. Però, grosso modo, è rimasto uguale. Appunto, hanno tolto load store, load multiplo e store multiplo. Facciamo un po' di esempi, appunto. Come dicevo, MOV PC LR non è più fattibile, c'è una bellissima istruzione RET che fa tutta la magia per noi. Poi, appunto, il program counter non è più accessibile. Come si fa? Hanno introdotto un'istruzione carina, carina, che si chiama ADR. Essenzialmente questa istruzione ci computa un indirizzo relativo al program counter corrente. Essenzialmente questa ci serve per caricare letterali che sono memorizzati in giro nel codice, non troppo distante da dove sta venendo eseguito. Sono due istruzioni leggermente differenti perché essenzialmente permettono di avere degli offset rispetto al program counter di dimensioni diverse. essenzialmente questa ha degli offset e permette di referenziare solo cose allineate a 4KB, però allo stesso tempo ci permette di andare più distante, fino a 1GB, mi pare, di memoria. Appunto... Ah sì, Load Store hanno fatto anche un altro piccolo cambiamento. Siccome l'architettura è a 64 bit, ma può essere utile di lavorare con porzioni di registro, quindi per caricare, ad esempio, 32 bit, è possibile fare cose come LDR V0. V0 non indica il registro a 64 bit, ma solo la porzione a 32 bit del registro. Tutto il resto viene wipeato a zero. Bisogna molto fare attenzione perché, appunto, una volta su ARM si usava a fare dei NOP, facendo, appunto, che ne so, adesso non mi ricordo mai, c'era, mi pare, tipo il MOV del registro su se stesso. Bisogna stare attenti perché se si fanno quelle istruzioni in quel modo lì si rischia di wipearsi un pezzo di registro. E... appunto, questo è un esempio di... su come si memorizza un paio di registri. STP, X0, X1. Questo è il registro contenente l'indirizzo di memoria rispetto a dove vogliamo salvare questi due registri. E, appunto, questo è l'offset. Questo è l'offset. Poi, appunto, ARM supporta anche altre cose molto carine come... e non sono state eliminate, come, appunto, l'auto incremento e decremento. In questo modo, non bisogna per forza incrementare un registro via via, facciamo i push in memoria e quant'altro. E, appunto, dicevo che hanno eliminato le istruzioni condizionate, però alcune istruzioni condizionate strategiche, importanti, sono rimaste. Una di queste... o introdotte. Una di queste è C-Cell. C-Cell ci permette, in base a una condizione, di assegnare a un certo registro di destinazione un valore che potrebbe trovarsi nel registro A o nel registro Bit a seconda se la condizione è rispettata o no. E anche, ad esempio, esiste l'incremento condizionato. Quindi ci sono comunque un certo numero di istruzioni che è effettivamente utile avere condizionate. Ok. Un'altra cosa interessante è vedere qual è la calling convention su ARM64-bit, visto che è una delle cose più importanti poi quando si va a vedere l'assembly. innanzitutto i primi otto registri sono usati per i parametri o per il risultato della funzione. Poi abbiamo X8. X8 viene usato come registro dove si tiene un puntatore a memoria nel caso ci sono delle funzioni C che si passano a delle strutture. XH e X17 possono essere usati per il PLT, per tutte le questioni di rilocazione degli eseguibili, o come registro temporaneo. X18 è denominato un registro platform specific ma di fatto è un registro temporaneo. Si può usare come registro temporaneo. E poi il calling convention vuole infine che tutti i registri da X19 a X28 sono salvati dal chiamante perché altrimenti vengono persi. Questo è un esempio di codice ARM64-bit come vedete non è troppo dissimile concettualmente da quello che c'era prima appunto ci sono stati questi cambiamenti. Cos'è? Questa è una semplice funzione che è il decompilato di un Hello World che fa uso di puts per stampare Hello World a video. Non vi ho mostrato printf perché printf ha fatto quel maccello per via che è una funzione con un numero di argomenti variabile. semplicemente qua all'inizio il preambolo fa il setup dello stack dopodiché la prima la cosa subito successiva che è sotto qua è praticamente carica usando adrp come vi dicevo prima carica il letterale contenente l'indirizzo della stringa della stringa Hello World lo fa trovare sul registro X0 con BL facciamo un salto con branch e link registra praticamente facciamo un salto ma l'indirizzo viene salvato nel link registra e facciamo questo salto all'indirizzo dove c'è il PLT di puts dopo di BL è call sì scusa non l'ho detto BL è di fatto call perché appunto lui AB che sta per branch che fa il jump e B e L che è branch e link appunto fa il branch ma mentre fa il branch si copia il program counter dentro il link register è un approccio abbastanza semplice anche pulito devo dire e poi appunto quando esce si beh qua esce non guardiamo i valori di ritorno ma V0 perché essenzialmente la main è stata dichiarata come int main che ritornerà al sistema operativo il valore con cui esce l'applicazione ovvero exit success e V0 perché è un intero quindi di fatto ci interessano solo i primi 32 bit perché è un intero e quindi facciamo mod V0 del valore 0 e infine vabbè appunto c'è facciamo appunto finiamo con il setup e lo stack e via usciamo dalla funzione RET appunto è per uscire dalla funzione e ripristinare il program counter col valore contenuto nel link register altro esempio chiamata di una syscall chiamata di syscall non è essenzialmente cambiata e facciamo appunto soliti move e carichiamo questa è una di fatto una macro del del nostro assemblatore essenzialmente ci lui genera delle istruzioni che ci permettono di ritrovarci in X1 l'indirizzo di ello string e dopo di che questa è una semplice write successivamente mettiamo un numero di byte che vogliamo stampare la stringa e svc è la chiamata a un servizio del sistema operativo una syscall classica e adesso tra parentesi faccio un inciso su questa cosa qua che questa è un po' una riorganizzazione che hanno fatto e hanno introdotto quattro modalità di funzionamento all'interno di ARMv8 allora premessa tutte le architetture prima ARM hanno hanno aggiunto vari pezzi di modalità di esecuzione hanno aggiunto trustzone ad esempio che è la modalità per il secure monitor che viene usato per varie cose e un'altra cosa che hanno introdotto sono le estensioni per virtualizzare e hanno fatto un po' di hanno aggiunto un po' di pezze qua e là e un'altra cosa che è sempre stata abbastanza infelice dell'architettura ARM perché era nata con la necessità di gestire gli interrupt molto rapidamente era quella dei banked registers essenzialmente quando si entrava nella modalità di gestione di interrupt alcuni registri venivano nascosti e si fa accesso a degli altri registri che sono i registri rinominati e questo modello è abbastanza complicato quando si vuole scrivere un handler per un interrupt e qui c'è stato un cambio sostanziale appunto su come vengono gestite le cose e appunto vi stavo dicendo ci sono 4 modalità di funzionamento allora il livello in cui vengono le applicazioni vengono eseguite è L0 L0 è praticamente come è il ring dello user space essenzialmente non si possono fare grandi cose nel sistema e L1 invece è il ring del kernel dentro un hypervisor e qua c'è un piccolo asterisco e L2 è appunto il layer dell'hypervisor normalmente quando si fa boot ci si può trovare che il sistema sia in e in L2 significa che il sistema è capace di avviare un hypervisor ma non sempre è così bisogna fare un check se si sta scrivendo del codice per avviare il sistema in bare metal perché essenzialmente se troviamo che siamo in modalità le due dire che il nostro kernel può virtualizzare eventualmente quindi se è un kernel Linux può inizializzare la parte di kvm per far virtualizzazione se ci troviamo dentro L1 vuol dire che per un motivo di qualche tipo noi non possiamo virtualizzare o siamo già dentro un sistema di virtualizzazione e quindi siamo dentro un hypervisor e poi c'è un altro layer appunto c'è appunto layer hypervisor e infine c'è le L3 che è il livello di esecuzione della trust zone quindi dentro il dispositivo potrebbe esserci già in esecuzione un monitor tipo un secure monitor che ci sta che ci offre alcuni servizi e mi pare che la cosa su X86 sia simile a SMM in teoria che è possibile avere sempre del codice in esecuzione per la gestione del sistema tra le varie queste cose può essere anche interessante ci può porre altre questioni che possiamo anche chiederci sul fatto che appunto noi prendiamo un dispositivo pensiamo di avere controllo totale su questo dispositivo ma in realtà può essere che ci sia proprio un firmware in esecuzione sulla nostra CPU che fa i comodi suoi ogni livello può chiamare funzioni nel livello superiore quindi L0 riganciandoci alle slide di prima può chiamare le farsis call verso il kernel tramite SVC e L1 può far chiamate verso l'hypervisor tramite un'istituzione si chiama HVC e l'hypervisor può fare chiamate al secure monitor tramite MVC cioè questo cosa più livelli e cosa c'era ah si ovviamente quando viene fatta una chiamata tipo SVC quello che succede è che viene generata un'interruzione e quindi il nostro stato di esecuzione passa da EL0 a EL1 passiamo direttamente alla modalità kernel quando succede questo non c'è più tutto quel casino che vi ho anticipato prima dei bank del registers ma abbiamo una serie alta di registri accessibili con dei nomi ben definiti e ci sono per ogni livello di esecuzione ci sono alcuni registri sono duplicati e sono riconoscibili perché sono chiamati nome registro underscore EL0 nome registro underscore EL1 e quant'altro poi vediamo che altro precisare su questa cosa ok siamo a posto su questa cosa slide successiva e arriviamo ormai verso la fine del talk come si avvia un sistema arm v8 e allora può essere sempre quel classico uboot è possibile continuare a fare boot con uboot potrebbe essere che ci troviamo che il sistema parta con fast boot altrimenti o altrimenti ne parlano anche le specifiche ufficiali di arm potrebbe esserci wifi e si ci troviamo anche sui dispositivi arm cosa? si quindi può essere che il vostro sistema si è lanciato da un bellissimo wifi e il bootloader potrebbe essere un bellissimo file exe e loro anche raccomandano tra parentesi di usare wifi però finora non ho ancora visto hardware con wifi probabilmente quell'hardware con wifi verrà usato sui windows phone e sui server quindi quello che si vede in giro nell'hardware che si può trovare commercialmente in genere è fast boot che per molti di voi potrebbe essere familiare se lavorate con android e basta in realtà non qua ho finito con la presentazione di Lake possiamo passare anche alle domande un po' di cose in realtà però va bene cominciamo con una tu dicevi che quando viene fatta praticamente ci sono delle istruzioni per fare quelli che adesso io parlo x86 quindi perdonami i jump vengono gestiti attraverso fondamentalmente dei relative jump giusto? sì ok sì in realtà quello che si fa è che è possibile appunto fare il jump a un indirizzo salvato su un registro appunto fare anche jump rispetto a un offset ecco c'è un jump rispetto a un offset sì ok in un'ottica in un'ottica di un binario pi quindi con position independent execution che è in teoria una protezione che dovrebbe evitare proprio la possibilità di conoscere a priori gli indirizzi in cui si trovano determinate funzioni per poterci saltare sopra fare ROP questa secondo te non ha un impatto negativo nel confronto della sicurezza dei binari eseguibili intendi appunto il problema del salto ASLR e Pi fondamentalmente randomizzano la posizione dell'offset in cui si trova l'immagine del binario in memoria in modo che se tu non sai dove si trova un determinato codice in teoria non ci puoi saltare sopra però se io vado in relativo a quel punto io rispetto alla posizione in cui sono so sempre se sono x byte indietro x byte avanti ok capisco il punto ma la questione è anche una questione di semplicità nel senso che avere un salto relativo ci permette di avere all'interno di un singolo upcode senza eseguire altri cicli macchina per caricare l'indirizzo direttamente fare un salto a una cosa vicina altrimenti dovresti caricare l'indirizzo dovresti saltare anche magari all'interno della funzione e poi a quel punto potresti saltare speri che di questi cicli è una questione di efficienza ho capito il link è acceso il link register si sente il link register un attimo aereo il link register è accessibile posso scriverci dentro si si è accessibilissimo quindi diciamo che se posso scrivere nel link register e poi posso ritornare è la stessa cosa che fare un move link register pc abbiamo aggiunto due istruzioni per fare la stessa cosa in una non capisco l'osservazione quando si fa la move lr in pc la stessa cosa la possiamo fare in due istruzioni facendo cambiando lr essenzialmente ok chiaro ma in realtà a noi interessa interessa semplicemente tornare al chiamante se ci troviamo direttamente l'indirizzo dove su dove tornare dentro il link register non ci interessa andare a toccare il link register al più ci interessa salvarlo se dobbiamo fare altre chiamate dentro quella funzione ma poi a noi basta tornare indietro con RET un'altra cosa che volevo chiedere tu hai detto che ARMv8 è completamente incompatibile con ARMv7 significa che non c'è un subset di istruzioni tipo in x86-64 in cui tu puoi eseguire i386 ad esempio cioè non puoi avere un subset a 32 bit dentro allora essenzialmente succede che la cpu allora la cpu supporta sia il decoding delle istruzioni thumb sia il decoding delle istruzioni ARMv8 32 bit sia il decoding delle nuove istruzioni quando si è però cosa succede non c'è l'interworking ovvero non posso in libertà far salti da codice ARMv8 32 bit a codice ARMv8 64 bit deve esserci un context switch eseguito dal sistema operativo quello che succede è che la parte di decoding viene proprio cambiata in teoria viene proprio spenta sul silicio quindi non dovrebbe consumare viene eseguito normalmente tutta la parte 64 bit due casi velocemente lo stack pointer è sempre duale ce n'è uno per modalità user uno per quando control bit è spento uno per quando è acceso e c'è lo stack pointer usabile dai processi utenti poi c'è appunto lo stack pointer che noi settiamo prima che è utile quando poi devono gestire le interruzioni e ritorno da interrupt c'è ancora i valori magici non c'è più movs pc lr mi pare che fosse quella ma c'è eret ah c'è eret per tornare dagli interrupt esatto mi pare se ricorreggete mi pare che una volta si faceva settando un bit di segno all'interno della mov si 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 sono tre nell'arm v7 c'erano tre tipi di valori diversi da ritornare si hanno semplificato è stata una delle migliorie proprio grosse è stata la gestione dell'interrupt l'hanno proprio sanitizzata infatti ci sono ovviamente delle limitazioni prima stavo dicendo di tutti i modi in cui si può lavorare e ovviamente non è possibile avere binari a 64 bit se il kernel è a 32 bit e non è possibile nemmeno se sia quello che loro denominano secure OS avere un hypervisor in esecuzione cioè si può avere secure monitor e avere un hypervisor ma non si può avere il secure OS dentro un hypervisor e per il resto è stato fatto abbastanza riordino e si può avere appunto se nel layer superiore c'è 64 bit si può avere in qualsiasi layer inferiore il codice 32 bit e piccola parentesi dicevo prima che non hanno fatto troppi pasticci con l'abi in realtà nel draft del loro abi cell supporto delle modalità che tipo sei in ARM 64 ma in realtà stai usando long a 32 bit puntatore a 32 bit penso che sia una cosa abbastanza che vuole scimmiotare X32 però di fatto non l'ho mai vista in giro e attualmente quel documento è in beta non so se la cosa sia evoluta e qualcuno fosse veramente interessato sì io volevo sapere a livello di sicurezza e a livello di supporto dal sistema operativo cosa possono essere dei problemi o anche eventualmente dei vantaggi rispetto ad altre architetture hai parlato di trusted zone e anche dell'hypervisor se c'è a livello di software software libero se c'entra qualcosa e infine avevi anche parlato di un firmware che potrebbe che un firmware potrebbe girare ma non di nascosto e quindi non so spiare o altro allora qual è la situazione del software libero su ARM V8 beh a parte che ARM V8 mi dicevo inizialmente è già fuori da un po' di tempo e ora appunto è disponibile a grande massa e c'è hardware c'è schede simili alla Raspberry Pi open hardware potete farci quello che volete nessuno vi mette limiti ci sono tante altre schede e quindi la cosa va abbastanza bene ovviamente se uno volesse fare dell'hardware ben lockato non risulta eccessivamente complicato nel senso che è possibile decidere che ne so mettiamo che ci sia un produttore meno simpatico e facesse schede stile Raspberry Pi ma un po' meno simpatiche potrebbe decidervi di relegarvi a un livello EL1 e lui potrebbe avere accesso per il resto sull'hardware tra parentesi e tutta questa gerarchia di esecuzione permette anche di fare routing di interruzioni da un livello all'altro quindi è possibile che un livello si prenda carico di alcune interruzioni e non le faccia trasparire ai livelli sotto quelli meno privilegiati o addirittura può emulare dell'hardware e fare avere delle interruzioni virtuali che sembrano generate all'hardware a livelli meno privilegiati questo è un po' la fantasia dei produttori quello che succederà e per il resto appunto UEFI volendo c'è anche Tiano Core mi pare che è un'implementazione libera e quindi se uno ci tiene proprio particolarmente a UEFI può anche usare Tiano Core tra parentesi mi pare che Linaro spostasse abbastanza Tiano Core o almeno consigliasse il suo utilizzo però appunto è più probabile che si veda sui server o sui dispositivi tipo Windows Phone io non sono esperto di Windows Phone può essere anche che non sia vero quindi se qualcuno lo sa mi corregga e per resto non sono blindati in modo particolare attualmente dispositivi in circolazione ciao ti volevo ti volevo dire che pochi giorni fa è uscita la notizia che si potevano mettere Android su dei Windows Phone quindi non so questo no UEFI comunque è supportato da Linux essendo comunque anche una cosa sponsorizzata da Linaro si sono presi cura di supportare bene anche UEFI tra parentesi in realtà il lavoro di supporto di Linux è stato fatto grazie all'aiuto di ARM che subito ha iniziato a lavorare su GCC hanno iniziato subito a lavorare sul kernel Linux e loro privatamente stavano già lavorando sul kernel prima ancora che ci fosse dell'hardware disponibile in circolazione e avevano anche all'epoca messo a disposizione cose come il Foundation Model che era essenzialmente il loro emulatore ufficiale con cui era possibile riprodurre una di queste CPU quindi in realtà c'è una buona intenzione comunque di supportare Linux perché effettivamente maggior parte di processori ARM probabilmente sta venendo usata con Linux in giro quindi non c'è nessuno ha intenzione di ostacolare l'adozione di Linux su questi sistemi è più un interesse sul io che voglio fare cose amatoriali cosa posso fare con ARM V8 esiste ancora Traszone sì sarebbe l'EL3 perché da quello che avevo capito funzionava un po' diverso cioè almeno dalla documentazione che ero riuscito a leggere di Traszone diciamo come se fosse una cosa parallela non sopra che vive per i fatti suoi ma che non poteva essere chiamata da tutto il resto eh no offre proprio una chiamata no questa è una cosa ben documentata c'è proprio una chiamata ben precisa che permette ai layer sotto di chiamare le funzionalità del Traszone penso che un'implementazione del Traszone potrebbe essere per salvare che ne so chiavi password o quant'altro in un'area dedicata dell'hardware quindi il sistema operativo che c'è in esecuzione chiama la Traszone per fare quelle cose che devono essere trusted e la Traszone fa quei compiti non è una cosa che vive a sé stante certo se ci fosse qualcuno che facesse l'hardware malevolo che ci vuole rubare dati probabilmente Traszone è un buon punto di partenza però questa non è una peculiarità di ARM anche su sistemi Intel la cosa si sta diffondendo abbastanza grazie 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 grazie